Il censimento 2021 di Napoli segna un dato ormai cronico. La città è spaccata in due, soprattutto sul piano dell'istruzione. Nelle periferie da est a ovest e nord, dalla Municipalità 6 a quella 8, passando per la 9 la 7, i laureati non arrivano nemmeno al 10% nella zona orientale, si fermano a meno del 7%. Il divario con la Napoli di sopra è disarmante. Nella zona collinare, a Chiaia Posillipo, si superano invece complessivamente i valori del 60-65%. Per laureati e diplomati permangono sempre due città piuttosto omogenee, afferma il sociologo Pietro Sabatino di New Europe. Quella collinare con buoni livelli di istruzione e quella delle periferie esterne, quasi 400.000 persone, con una situazione ormai difficile da trovare in Europa. Il resto è una città frastagliata, eterogenea, mediana, le cui caratteristiche sono tutte da approfondire nei prossimi mesi, aggiunge Sabatino. La città del turismo e dell'innovazione fa i conti ancora con l'analfabetismo e carenza totale di strumenti e saperi culturali.